Jacopo corsia 3, Mattia corsia 6 pronti alla partenza via, sono partiti gira Jacopo corsia 3, Mattia corsia 6 54 1 e siamo ai 200 per Jacopo eccolo 53 8, gira Mattia 1, 52, 18 Mattia e siamo ai 3 per Jacopo corsia 3, eccolo 2, 44, 8 3 per Mattia 2, 51, 0, 8 arriva Jacopo ai 4 eccolo 3, 42, 24 arriva Mattia ai 4 3, 50, 52 e siamo ai 500 per Jacopo e siamo ai 500 per Jacopo e gira in 4, 39 netto i 6, Mattia e gira in 4, 49, 51 arriva Jacopo ai 600 gira in 5, 35, 89 Mattia ai 600 5, 48, 15 ottimo sta girando ancora in 59 e siamo ai 700 la notata è bella fluida attenzione 6, 42, 73 arriva Mattia in 6 ultimi 100 metri 6, 45, 82 ecco arriva Jacopo chiude l'8 in 7, 27, 15 Mattia chiude l'8 di 7, 40, 47 campione italiano seconda categoria grazie a tutti Grazie.